Benvenuti amici, io sono Salopimpos, oggi siamo su Ragdoll Rage Praticamente un altro gioco demenziale ragazzi, tutti i giochi demenziali ve li porto io Però sono bellissimi Allora, praticamente siamo in un gioco online, praticamente è un gioco online in cui ci si sfida con le bambole O quantomeno il gameplay è stile Ragdoll E quindi dobbiamo affrontare gli avversari cercando di sconfiggerli Allora, hold and move, così guardate qui Guardate qui, ubriachi stanno Sta ballando Ok, con questo saltiamo Ok, guardate lì Stile Ragdoll, perfetto Quindi dobbiamo prenderci un'arma Per fare, vieni a, mamma mia Mamma mia Ok Mamma mia Proprio Ragdoll a tutti gli effetti Come si spara? Come spariamo? Ah, ok, hold and move, così Ah, perfetto Aspetta che salte Crepa Bellissimo Bellì Crepa lì Perf, grande così Grande così Ovviamente qua siamo al tutorial Quindi ancora la modalità online la dobbiamo fare Allora, mi prendo questo Eccomi qua Ok Andiamo a passare quello Aspetta che adesso Aspetta Crepa 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 Ok Andiamo a passare con la pulsata No, è bellissimo Questo gioco A me mi ci vuole un attimo a capire se è un gioco merito o no Intanto andiamo a passare qua Eccoci Ah, erano due stavolta Erano due Ok Datemi quello che c'è qui dentro Forza Irn 520 Claim Perfetto Ok Apriamo il bauletto Vediamo quello che mi date Giorno 1 500 E datemi Quando le cose sono gratis Mi piacciono un casino Datemi tutto ciò che è gratis Roulette Che mi date qua? Che mi date? Che mi date? Che mi date? Altre monete? Altre monete Per un totale di Altre 2000 Ottimo Datemi tutti i soldi Non ho capito ancora a che serve A che serve un iso Voglio sta tizia qua Sailor Moon Voglio Sailor Moon Costa mille Sailor Moon La possiamo prendere Oppure Che altro c'è? Possiamo comprare solo Sailor Moon Praticamente Niente Dobbiamo accontentarci di Sailor Moon E vabbè Va bene Gli altri non me li fa vedere Startiamo forse Allora Eccomi qua Come disarmare Ok Ci vado vicino Mi frego l'arma Ok Adesso si che ho capito Prima Quella è incatenata proprio Aspettene Che è successo? Aspetta Evitiamo quale Dammi Dammi sta arma Dammi la tua arma Dammi la tua arma Che non ti serve Che tu sei incatenata Eccomi qua Crepa 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 Mamma mia che distrutti I vostri gioco Però io ricordo Cioè io so che è online Dovrebbe essere online Però non lo so Allora teleport Mi teletrasporta dall'altra parte Prendo una motosega Adesso ti tagliuzzo tutto Eccomi qua Affetto tutto Affetto pure te Crepa 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 E crepa Anche lui mi ha fatto danno Stavo per morire Però l'abbiamo ammazzato L'importante è riuscirci Altra cassa per me 520 Claim Potenziamo Potenziamo Quest'arma Ok Potenziamo per 800 Fire rate Ottimo così Va bene Che facciamo adesso Home Apriamoci il nostro regalino Che mi date Che mi date Roulette Altra roulette Altri 2000 dollari Che mi date Che mi date Che mi date Che mi date Un'ampolletta Un'ampolletta Che serve 5 energia Va bene Quindi probabilmente Per affrontare gli scontri Dovremmo spendere Energia Meglio così Va bene No questi non mi interessano Ah il pvp mod Praticamente si deve sbloccare Ancora Va bene Qua abbiamo Da Reclamare un po' di cose Vabbè Complete il tutorial Perfetto Un altro pacchetto a me Forza Qua i pacchetti Me li danno così a caso Meglio per me Comunque Che mi date Monete Queste sono di meno Di quelle di prima Infatti sono 300 E dai Come siete A cagni Va bene Mi fate fare qualcosa Oltre a lasciare Le monete Allora Free fight Qua possiamo riscuotere Ok Come si cambia il personaggio Play Upgrade Shield Bonus Vabbè Per adesso Teniamoci se l'ormone Allora Free fight Play C'è differenza Eccola qua Ecco Eh finalmente Allora Abbiamo un casino di personaggi Get in the chest 2700 Don't need it Creepy Bello questo 2007 Ma quasi Ma aspetta 2007 Più 110 O solo 2007 Questo è bellissimo Poi abbiamo Mysterious Wrestler Cheerleader Lily Rose Fish King C'è stato un casino Monster Slayer Guardando 15 video Potremmo prenderlo questo Epic Woman Richard Crazy Girl Richard the Cucumber Dead Sweet Bello questo Lucky Pirate Ok Dracula Bello Dracula Per 2007 Poi abbiamo Pathout Evil Princess Questo con i missili Insomma Ce ne sono Il Joker Bello il Joker Voglio il Joker Questo no 2007 Omer Ma prendo Omer Ma prendiamo Omer Collezionato Ma fighissimo Omer Ok start Forza Eccoci qua Adesso Omer vi farà vedere Quanto è potente Eccoci qua Allora 3 2 1 Non sono online Non sono online Non sono online Aspetta un attimo Tizio Aspetta che devo andare a prendere Quella cosa lì sopra Non svolazzare prima di me No è mia È mia Mollala 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 C'è un piccolo problema tecnico Con la mia bambola Se ne va per i fattacci suoi Via Quello già si è armato Io non riesco ad armarmi Manco Manco sotto Io sono armato Aspetta un attimo Non ci capisco più niente qua Vieni qua Dov'è Dov'è che andai Non mi spara le cose Per favore Vieni qua Vieni qua Ti sparo Ti disintegro L'ho colpito Dov'è Che sta a fare qua Crepa Che sta a fare qua Crepa Eccoci qua Crepa Faccia di capra Crepa Ok Sta morendo Sei disarmato Non mi puoi colpire È morto Non mi ha fatto niente È troppo fighissimo Sto gioco ragazzi Fatemi sapere Se volete una serie Come al solito Lasciate sempre like Allora Eccomi Stavolta ci vado per primo Perché non riesco Oh Allelu Vieni qua Non mi sparare Non mi sparare Qualcosa grosso Quello che ha lui È più grosso Distruggiamo tutto Crepa 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 Ok l'ho colpito Aspetta un attimo Aspetta Ho un piccolo problema Tecnico di teletrasporto Crepa Crepa Salta Salta e crepa Salta e crepa Ok Mi sta ammazzando pure lui però Però io l'ho fatto prima Ok Quanti round sono? Abbiamo vinto Datemi tante monete 336 Anzi Anzi devo dire che le monete Si fanno abbastanza facilmente Va bene Riscuotiamo qua 500 Distruggere ostacoli Abbiamo tanto da riscuotere Effettivamente Claim Claim Io claimo tutto Chi se ne frega 4176 Fight Allora Utilizziamo nuovamente lui Che è 3,2,1 Dove sono le armi qua? Levati Levati Aspetta che mi devo buttare Levati Dove sono le armi? Arriveranno Via Via Come se non ci fosse un domani Levati Che l'arma è mia Crepa Crepa Che l'arma è mia Crepa Quindi In alcuni livelli Chi arriva prima Si equipaggia di armi Ottimo Bellissimo Mi piace Ciao Adesso ti spingo fuori Faccio Crepa Crepa Levati Prendi a testa Muori Ecco Stai qua Stai Che mi vado a fregare l'arma Ecco Così si vince a questo gioco Il lanciagranate Non mi disarmare però Lanciagranate Guardateli come l'ho distrutto Bellissimo Adesso ti faccio vedere io Altre monete Facilissime per me Claim 520 Chi manda allo Che è Superman Try Free Aquaman Vabbè posso sbloccarmi qualcos'altro Il coniglio Vai Joey Aspettate Vediamo qualcosa di più bello Il pirata Slighty dead course Ok mi prendo il pirata Spendiamo soldi così a caso Start Startiamo Contro Venom Adesso questo mi slinguaccia tutto Mi slinguaccia Allora dov'è qua Aspettate che Via 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 No me la frego io quella Me la frego io Me la frego io con il jetpack pure E' come il jetpack Come si usa il jetpack Così perfetto Troppo jetpack E crepiamo Via No il jetpack è fighissimo Via crepa Crepa Facce di capra crepa Il jetpack è utilissimo E crepa Già abbiamo ammazzato Ok Bellissimo Troppo divertente questo gioco Va bene Seconde round Seconde round Il jetpack me la ridate Mi sto qua Mi sto qua prendo tutto L'auricolare Sempre gli auricolari Via di jet Si è fossilizzato Crepa Crepa Ho preso danno però da quella cosa Crepa Aia Aia Ho preso danno Continuo a prendere danno L'ho ammazzato Meno male Cacchiera sta cosa Cosa appuntita Va bene Moneta 222 Taccagni Siete taccagni Death by difference guns Allora facciamo l'ultima Casomai abbiamo da sbloccare qualcos'altro Intanto Claimiamo qua Ok Ma quanto ci vuole per sbloccare il pvp Intanto claimiamo qua Abbiamo claimato tutto Si Altre due battaglie Sbloccheremo il pvp Va bene Allora Forza Andiamo di play Normale Play Sempre lui Shoes Il play praticamente è una serie di Di incontri Vedete quello che c'è Sono le lag Addirittura Allora Startiamo Forza Eccoci qua Buono Meglio a sapersi Abbiamo le lag pure Allora 3 2 1 Via Perché le pistoline io E voi vi equipaggiate di lanciarazzi qua Le pistoline Eccolo il lanciarazzi Ma vado a prendere io Eccomi qua Crepa Faccia di capra Quindi non basta equipaggiarsi di arma Dobbiamo pure trovare quella potente Crepa Faccia di moscerino Crepa Crepa Ora si Con il lanciarazzi ci credo che vinco Andiamo al secondo round Allora 3 2 1 E Via 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 Eccomi Eccomi Prendi questa Prendi questa Mi ha disarmato Mi ha disarmato Il test di capra Dov'è Dov'è l'arma Svolazzata l'arma No la pistolina No però Dammi l'arma Dammi l'arma Non lo posso disarmare Eccomi qua Ti sparo da dietro Ti sparo Mi sono appiccicata a te come una cozza Solo che lui ha l'arma più potente Per pochissimo Per pochissimo Eh L'abbiamo vinta Ottimo Tante monete a me Tantissimo Quanto vi date Quanto vi date 286 Ok Praticamente siamo allo stage 2 Giusto Sì esatto Siamo allo stage 2 Va bene Abbiamo sbloccato il pvp Se lascerete tanti like Ce ne andremo a fare Al prossimo video Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Vi ricordo che potete Seguimbanco Sono progetto Facebook Twitter Siamo a tutti i social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto A presto Il nuovo video Oggi torniamo La domenica Horror Con Mental Hospital 6 Child of Evil Allora Siamo al capitolo Darkness L'ultima volta Ma la son vista brutta Come al solito Però Adesso siamo al darkness Cioè ancora peggio